Luigi, vuoi dirci qualcosa della mostra che hai appena visitato? Sì, è stato molto interessante, soprattutto il fatto dell'evoluzione, la statistica dei dati fra le varie generazioni. È stato molto carino l'escamotage di usare i nomi più utilizzati, più scelti da italiani, come nomi per le persone che sembravano errare la vicenda. Sono stati interessanti i dati che a volte sembravano, sono stati presenti fino agli anni 80, utilizzati di metodi un po' vall'antica, ancora scritta, ma gli schermini, quelli forati per la foto automatici. E niente, mi valza la pena venire tutti da Livorno, è una cosa che secondo me può essere molto interessante. Siamo contenti, grazie Luigi. Allora direi che adesso andiamo ad approfondire qualche cosa in laboratorio. Ok, grazie a tutti.